Il mare, il porto e le sue genti. Non poteva avere un nome più eloquente l'esposizione permanente dedicata alle grandi tradizioni marinare fanesi e, soprattutto, ai marinai stessi. Sabato 5 marzo le prime visite guidate in via Puccini 22 in zona Lido per divulgare la grande storia della città, la quale inevitabilmente è una cosa sola col mare, il porto e appunto le sue genti. Lo sanno bene gli appassionati componenti dell'associazione Ridosso, ex lupi di mare grazie ai quali il progetto Porto Futuro, che mira a regalare una seconda giovinezza all'area portuale, si arricchisce di un nuovo importante tassello. Partiamo anche con l'esposizione permanente, quindi fotografie, stampe e quant'altro, partiamo dal 1600 perché partiamo dalla Darsena Borghese che in qualche modo è stato il vero primo porto della città di Fano. La mostra è una mostra fotografica, quindi con foto alcune in esclusiva, alcune che noi abbiamo comunque trovato nella Biblioteca Federiciana, qui a Fano, e poi abbiamo dei modellini di alcune barche, diciamo quando erano a vela, perché è un po' la storia. Poi abbiamo le attrezzature della pesca, quindi vari tipi di rete, i vari tipi di anche pesca diciamo più semplice, quindi nasse, cestini e cose di questo genere. Poi abbiamo una bella dotazione di attrezzature per della cantieristica, ma la cantieristica quella post-belli, post-guerra diciamo dove si usavano le attrezze a mano, non quelli con la vetroresina così. Poi abbiamo tantissima documentazione, video, abbiamo addirittura un video dell'Istituto Lauce che fa vedere come funziona, come funzionava la realizzazione delle barche. Noi andiamo a parlare con i vecchi marinai, sono loro che ci raccontano le storie, quello che è avvenuto quando magari qualcuno andava ancora a vela. Adesso purtroppo non ci sono quasi più, però per esempio il nostro esperto, un nostro socio, lui quando va nelle scuole racconta la vita di mare, cioè quello che era quando andavano a pesca negli anni 40, 50 e avanti insomma. Se vogliamo andare in una certa direzione dobbiamo anche sapere da dove siamo partiti. L'esposizione, come detto, è permanente, l'ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione attraverso il sito web dell'associazione Ridosso oppure i contatti social di Porto Futuro. L'associazione Ridosso è la memoria storica del Porto, quindi volendo rivitalizzare le aree del Porto noi abbiamo l'obiettivo innanzitutto di recuperare qual è la storia del Porto, perché Porto Futuro parte dal passato, si sviluppa nel presente per avere un'ottica futura del Porto. Abbiamo riscontrato ovviamente grandissimo entusiasmo da parte dell'associazione, quindi avremo appuntamenti futuri dove cercheremo di mettere insieme l'associazione Ridosso con il consiglio dei bambini di Fano. Questo perché? Proprio per far incontrare le due generazioni come simbolo di scambio portuale all'interno del Porto i bambini e le persone adulte e vedere dall'insieme di queste due generazioni, vedere quale sarà il risultato delle idee che ci verranno portate per essere messe in pratica su Porto Futuro. L'idea finale è quella di realizzare, sicuramente di rivitalizzare le aree del Porto, quindi di realizzare un nuovo spazio per la città di Fano che comprenda degli spazi per i bambini, ma anche per gli adulti, ma anche per i giovani che avranno centralità all'interno del Porto.